Un altro suicidio di un preadolescente, 13 anni, a Palermo, forse vittima del bullismo, forse vittima di una discriminazione sessuale. Questo quando i dati ci dicono che sono aumentati del 55% le richieste d'aiuto di ragazzi, ragazze, preadolescenti e adolescenti che vogliono tentare il suicidio. Richieste quadruplicate, dice la Fondazione Veronesi, rispetto al 2019. Il suicidio è diventato quasi una nuova guerra. 46.000 bambini e adolescenti che si tolgono la vita e uno ogni 11 minuti si suicida. È la quinta causa di morte più comune. E in Italia i dati ISTAT 2016-2020 parlano di 500 suicidi per ragazzi da 15 a 34 anni. Il caso di Palermo è un caso ancora più atroce e quello che ci fa paura in questa atrocità è che ricorriamo ai progetti e ai ripari solo dopo che ci è scappato l'ennesimo morto. Non abbiamo pensato, per esempio, di creare delle equip interdisciplinari che possano affrontare questo problema partendo anche da dati di ricerca. Personalmente ho accertato dopo il Covid una fortissima fragilità dei preadolescenti e degli adolescenti e quindi una incapacità a reagire a forme di violenza sia fisica che verbale o virtuale che possa essere perpetrata nei loro confronti. Quindi una situazione di emergenza che deve essere combattuta con le armi dell'emergenza ma che deve diventare anche una prevenzione di ordinaria amministrazione. Per questo, al di là di interventi che possono essere nell'immediato dopo un caso di cronaca, bisogna progettare e programmare interventi interdisciplinari, non solo psicologici, giuridici, di prevenzione generale ma equip interdisciplinari che possano andare a comprendere le ragioni di questo disagio. Grazie a tutti.